Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo alcune domande, alcune risposte su il coronavirus, quel virus partito in Cina, che si parla di epidemie, di chissà quali catastrofi, ma vediamo realmente di cosa si tratta e quali sono le risposte alle domande più frequenti. La prima domanda è quella se il virus è molto contagioso. No, è falso, non è molto contagioso. Ha lo stesso tipo di capacità di propagarsi nella popolazione sana e di 1,5-2,5. Alla fine, in parole povere, ha la stessa capacità di propagarsi di una febbre, della classica febbre che conosciamo. O meglio, l'influenza. Ha la stessa capacità di propagarsi dell'influenza comune. La seconda domanda è come si cura? Si cura come l'influenza. Quindi i pazienti vengono trattati come per le infezioni gravi da virus non noti, a differenza che per l'influenza non ci sono farmaci antivirali specifici. Contro questo nuovo ospite, famiglia dei coronavirus, identificato come 2019-NCOV. Se il virus dovesse dare luogo a polmoniti particolarmente gravi, si può anche considerare l'uso dell'ECMO, l'ossigenazione extracorporea, una tecnica che è supportata dalle funzioni vitali attraverso l'ossigenazione del sangue. L'Italia è dotata di 14 centri di riferimento, ECMO. Un'altra domanda è questa. Senza i sintomi c'è contagio? La risposta è sì. Ci sono persone, pazienti, che stanno bene, non riscontrano nessun tipo di disturbo, ma possono ugualmente trasmettere il virus. Ci sono i cosiddetti portatori sani, che non risentono di nulla e non lo sanno neanche di averlo, ma lo possono trasmettere. Però i medici dicono che non bisogna essere allarmisti, perché comunque la trasmissione, come vi dicevo prima, è molto bassa. Un'altra domanda è se i cibi sono pericolosi. Ed è falso. Non si trasmette mangiando cibo infetto. Quindi non ci sono evidenze che il virus si trasmetta attraverso il cibo o per via alimentare, o anche toccando oggetti inanimati, come giocattoli, vestiario. È probabile che si trasmetta per via aerea, come tosse o starnuti. Un'altra domanda è che i sintomi sono come quelli dell'influenza. Assolutamente sì. Sono praticamente gli stessi. Febbre, tosse, difficoltà respiratoria. E nei casi più gravi, bronchite e polmonite sono le caratteristiche del coronavirus. Però attenzione, per non creare falsi allarmismi, visto che l'influenza è una cosa che prende e colpisce migliaia di persone in Italia ogni anno, non bisogna sospettare di avere questo virus se non si proviene dalla Cina e da quelle zone di contagio. Se no, se non si è andati là, è una semplice influenza. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è assolutamente gratuita e non comporta null'altro che un aiuto alla visibilità del canale. Nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.